Gli esperti parlano di un'ancestrale comunicazione, oltre che di un incontro fatto di emozioni. E' quello che avviene tra la nostra mente e l'intestino, proprio così avete sentito bene. Accorato la scuola di educazione alimentare ricorda che siamo quello che mangiamo, dipendono dal cibo e dalla mente i disturbi dell'alimentazione. Ci sono forti interconnessioni tra intelletto e corpo, i vissuti emotivi vengono in pratica somatizzati a livello gastrointestinale e come se spiegano l'intestino fosse un nostro secondo cervello. Come la mente, come il cervello, come la nostra esperienza mentale, anche l'intestino deve assorbire degli elementi, deve ricevere, deve filtrare, deve espellere e quindi il principio di funzionamento di questi due apparati, di questi due sistemi, ha delle analogie molto forti. Anche la mente può riservarsi di apprendere, di assorbire, di fare sue delle esperienze, cosa che invece l'intestino svolge su un piano più biologico alimentare. L'intento della scuola di educazione alimentare di Corato è quello di sensibilizzare ad una nuova visione olistica dell'organismo umano in cui non vi sia alcuna scissione tra corpo, emozioni, pensiero e ambiente per promuovere un cambiamento nel prendersi cura di sé delle relazioni umane. La relazione è anche verso un rapporto bidirezionale, cioè quello che mangiamo può influenzare in maniera abbastanza consistente il nostro modo di comportarci, il nostro modo di pensare.